Ciao a tutti, sono Veri Video Games, oggi continuiamo con The Sims 4 Nuove Stelle. E niente, ho fatto passare un giorno, alle 9 dobbiamo andare all'ingaggio e niente, vediamo come andrà. E ora che Ginevra si recchia al lavoro, vorresti seguirla? Unisci, ti manda per conto suo. E' ovvio che ci uniamo. Ok, eccoci qua. Ah, completa l'interpretazione, fatti pettinare, truccare, no vabbè che figata. E dove devo andare? Allora aspetta, stoppiamo il tempo. Ok, allora, dove dobbiamo andare? Allora qua non c'è niente. Forse là in fondo, andiamo là in fondo, non lo so. Ecco, fatti pettinare e truccare. Ora vediamo come ci fa, oh mio Dio. Sono curiosa. Fatemi sapere se anche voi state giocando questo gioco, oppure se avete intenzione di acquistarlo. Ma quanto cavolo ci metta? Eccola lì. Eh, no vabbè, c'è una figata. Però adesso mi piace. Adesso vediamo com'è qua. Lo tengo così, vediamo se si vede la sua faccia. Che la volevo? Ecco, forse così la vediamo meglio. Andiamo così un po' più avanti. Ok, mi avrà truccato. Ora penso mi farà i capelli. Ok, vediamo così, forse è meglio. Fatemi sapere voi che cosa avete scelto, se fate l'influenza oppure l'attrice. Oh mio Dio, bionda! Ok, va bene. Allora, quello l'abbiamo fatto. Mettiti in costume. Come faccio a mettermi in costume? Devo andare di qua? C'è qualcosa? Modifica gli abiti? Non lo so. Indosso un asciugamano? No? Ma anche no. Mettiti in costume. Ma dove vado per mettermi in costume? Sta suonando. Quindi bisogna fare... Allora, aspetta, posso andare più forte avanti lo specchio per esercitare? Ecco, esercitati nella recitazione. C'è scritto qua, quindi esercitiamoci nella recitazione. Come faccio a mettermi in costume? Se qualcuno di voi sa come... Dove andare o che cosa fare? Non lo scriva sotto nei commenti perché non so proprio che cacchie fare. Non è che dobbiamo andare sul palco scenico, magari. Ha questa abilità chitarra. Ha questa... Ok. E se vado sul palco scenico, che succede? Boh. C'è pure da maniare, ragazzi. Beh, mi pare ovvio. Allora. Ok. Impara a conoscere qualcuno sul set. Parliamo con il regista. Presentazione amichevole. Ma dov'è lei? Io non capito più. Ah, qua. Boh. Questo fa solo... Cioè, non so. Dove prendere i costumi, sinceramente? Che è la carriera, babbè. Mi pareva ovvio che era così. Di a registra che sei disponibile a registra. Vediamo cosa ci dice. Magari... Ginevra penso che è mandata il regista commerciale presso... E vabbè, mi pareva ovvio. Perché a che è successo? Sto spente le luci? Quindi? Ma stanno registrando qualcosa? Non lo so. No, non c'è niente. Vabbè. Lei pensa di andare a maniare? Interpreta la scena della nave? Ok. Come faccio a interpretare la scena? Devo andare di qua? Ma perché? Io non so dove cacchio devo andare. Non so neanche che cacchio. Ruota il timone è rischioso. Ruota il timone è sicuro. Ruota il timone è rischioso. Ora faccio crollare tutto. E siamo a posto. Dai, hai finito di maniare. Cioè, non mi dire ci vuoi con tutto il maniare. Vabbè, va. Certo, una deve recitare ci vuoi con la roba da mangiare. Perfetto proprio. Vediamo. Ancora non lo conosco bene il gioco. Quindi se avete dei consigli da darmi... No, vabbè, sta recitando veramente. No, vabbè, che figata. Interpreta la scena di un'asciugatura. È questa, allora. Ma non mostro il prodotto. Io mostro sempre il prodotto in modo rischioso. Volevo vedere anche... Però è un po' difficile inquadrare qua. Come cacchio faccio? Volevo vedere sia il regista che... Ma è impossibile. Come faccio a vedere? Vabbè, dai, guardiamole. No, vabbè, raga, che figata. Sei dimenticata delle parole? La prossima volta guardo il regista per vedere. Sono stata brava o no? Me lo dica, ho fatto cagare, sono stata brava. Imparo a conoscere. Vediamo se dopo un po' posso di nuovo interpretare la scena dell'asciugatura. Perché non mi fa cliccare niente. Smanettone. Abbiamo scoperto che è smanettone. Perché qua... Ah, asciuga rischioso, asciuga sicuro. Asciuga rischioso, ovviamente. Andiamo, andiamo. No, ho capito. Scusate, ma è successo le prime volte che gioco, quindi non so bene come funzioni. Non so neanche come posizionarmi. No, vabbè. Mi è andata bene? Scusate se continuo a girare, ma volevo vedere... Quindi? Che cosa dobbiamo fare? Abbiamo finito, sì? Ok. Però qua non mi si affaccia più niente da cosa fare e cosa non fare. Quindi non so neanche cosa fare. Ginevra ha ottenuto il livello bronzo. Abbiamo finito. Ho fatto cagare o sono andata bene? Vabbè. Ginevra ha finito tutte le proprie scene. La truppa sta smobilitando e il materiale filmato viene inviato al montaggio. Vai a casa, rimani nell'otto. Ma io rimanerei ancora un po' qua, dai. 335. Ok. Conosciamo un po' qualcuno. Non lo so, qualche collega. Non lo so. Siamo tornati alla normalità, abbiamo di nuovo i capelli rossi. Niente, direi di finire qua. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Mi raccomando per altri video. Ci vediamo in un prossimo video e ciao, ciao! Ciao!